MyFoodie è l'app che ti aiuta a ridurre gli sprechi alimentari e a risparmiare sulla tua spesa. Come funziona? È semplicissimo! Scarica gratuitamente l'app MyFoodie, controlla i prodotti antispreco disponibili nei punti vendita ai supermercati più vicini a te e vai ad acquistarli direttamente in negozio. Scopri i prodotti vicini alla scadenza scontati al 50%, risparmia e contribuisci a salvare il pianeta. MyFoodie. L'amore per il cibo e per l'ambiente. Insieme contro lo spreco alimentare. Grazie.